Ciao a tutti, sono Roberto De Leo, con Vania Fornosciari, mia moglie, abbiamo inviato questa mascherata in gruppo, il titolo è Ingrasso Libero a chi sono? Ovviamente è un'evasione di questi personaggi del circo, tutti improntati sui pagliacci e per evadere un po' da questo mondo qui brutto, si fa un ingresso libero, se uno vuole sognare incomincia a sognare e entra in questo mondo fantastico del circo dei pagliacci.